Quest'anno ad ISEE siamo lieti di presentarvi molte novità, soprattutto nell'ambito della serie entry level, che da quest'anno sarà dotata di Android con pannelli 4K. Android è sicuramente la parola chiave del futuro in ambito del digital signage, permette una fruizione di applicazione all'interno del display senza la necessità di utilizzare hardware esterni. TeamViewer rappresenta l'applicazione più innovativa a bordo dei nostri display, con questo software infatti è possibile gestire il display da remoto con tutte le sue funzionalità, l'accensione, lo spegnimento e in generale il controllo dello stesso. Android è sicuramente il sistema operativo più comune del mondo, la possibilità di sviluppare applicazioni è un plus di Philips. Un'altra innovazione sicuramente importante è data dai pannelli ad alta risoluzione e ad alta luminosità. Qui a DISE presentiamo un nuovo prodotto 75 pollici dotato di 2500 candele, che lo rende un prodotto perfetto per vetrine dei negozi, vetrine di attività commerciali. Oltre a questo presentiamo il nuovissimo pannello 55 pollici, sempre dotato di 2500 candele, che lo rende perfetto per installazioni in totemi informativi e vetrine. Una grande innovazione che portiamo qui a DISE è la nuova tecnologia LED. Abbiamo sicuramente dei miglioramenti tecnologici salienti che riguardano la risoluzione e il passo, con un design dell'allestimento e della flessibilità. Un pannello frontale accessibile rende sicuramente più semplice la gestione delle problematiche sulla singola mattonella delle LED. Ampia gamma di colori e con una calibrazione della luminosità fanno di questo prodotto un'innovazione importante per il nostro portfolio prodotti. Con i prossimi modelli disponibili da 27 pollici e 44 pollici, sarà possibile progettare dimensioni di LED differenti rispetto all'attuale formato standard di 55 pollici. La nuova tecnologia LED wall di Philips è stata già installata in Italia, con una delle prime installazioni in Europa, presso officine Grande Riparazione di Torino, grazie all'impegno del nostro partner Sisme, che oltre all'installazione di questi LED ha potuto portare a termine un progetto che ha riguardato l'installazione di centinaia di monitor video wall e di monitor 98 pollici ed 84 pollici. In questo progetto OGR abbiamo avuto il vantaggio di poter installare una soluzione Desy Chain in e out senza l'utilizzo di player esterni. Tra le grandi novità che presentiamo qui a DISE quest'anno c'è sicuramente la nuova serie Q-Line con Android preintegrato e con risoluzione del pannello 4K. Questo innalza notevolmente la qualità del nostro prodotto entry-level. Siamo lieti anche di presentare una nuova gamma di soluzioni LED con una risoluzione e un passo migliorati, con un design e una flessibilità migliore e con soprattutto un'assistenza migliorativa con l'accesso diretto frontale del pannello, il che comporta una rapidità nella sostituzione in caso di danneggiamento. I modelli prossimi in via di distribuzione sono delle mattonelle 27 pollici e 44 pollici che comporteranno maggiore flessibilità e dimensione con possibilità di progettualità migliore.